Guerra di Eiji, capitolo 5. Fuga di Yoshitomo e morte di Tomonaga. Nella sua fuga, Minamoto Yoshitomo giunse al lago Biwa, nei pressi di Katata, e qui presa la testa di Yoshitaka, e recitando per lui le invocazioni al Buddha, entrò con il suo cavallo nel lago, finché l'acqua non fu a livello della pancia del suo destriero, e vi lasciò affondare la testa. Minamoto Yoshitaka, morto nel 1159, era lo zio di Yoshitomo, ed era anche il settimo figlio di Minamoto Yoshiei. Aveva la sua base nello shinano. Tra i suoi figli vi erano Minamoto Yoshihiro, morto nel 1180, Kuge Nomimitsu, Minamoto Yoritaka e Minamoto Sadataka. Costretto alla fuga dopo la guerra di Eiji nel 1159, si scontrò con i monaci guerrieri del monte Yihei a Ryuegegoe, dove venne ferito dalle frecce del monaco Yokokawa, cercando di fare da scuso umano a Yoshitomo. Essendo prossimo alla morte, Yoshitomo lo decapitò e gettò la sua testa nel lago Biwa, nelle vicinanze di Katata, l'odierna città di Otsu. Katata si trova sulla riva ovest nel lago Biwa, dove questo si stringe, segnando il confine tra il lago maggiore e quello minore, poco a sud dell'attuale ponte Biwako. Durante l'epoca Ian, assieme a Otsu, era uno dei porti chiave del lago. Poi risalì sulla riva e avrebbe potuto procurarsi una barca per attraversare il lago, ma era ormai tardi e infuriava il vento. Perciò preso la via di Gashi Sakamoto in direzione di Seta. Per Seta si intende la zona più a sud del lago Biwa, da dove si origina il fiume detto appunto Seta, detto anche Uji, ma più notte con il nome di Yodo, che partendo da lì va a gettarsi in mare nella baia di Osaka. La cittadina di Seta si trova sul lato est, subito dopo l'inizio del fiume, stazione ferroviaria di Seta. Raggiunta Seta, Yoshitomo disse ai suoi uomini che era meglio separarsi per non darne l'occhio, dando loro appuntamento nelle province dell'est. Quelli non volevano abbandonarlo, temendo che senza una scorta potesse accadergli qualcosa, ma alla fine cedettero alla sua volontà. La sorella di Atano no Yoshimichi aveva dato un figlio a Yoshitomo, Minamoto Tomunaga. 1143-1160. Dopo essere stato coinvolto nell'esuzione di Tame Yoshi e dei fratelli piccoli di Yoshitomo, nel 1156 Yoshimichi abbandonerà Yoshitomo e tornerà nelle sue terre d'origine nelle province di Sagami e passerà alla fazione dei Teira. Suo figlio Yoshitsune, da non confondere con l'omonimo fratello di Yoritomo, sconfiggerà Yoritomo a Ishiba Shiyama e poi difenderà il figlio di Matsuda. Suo figlio, Matsuda Arizune, si salverà dalla ipurazione di Yoritomo grazie alla protezione di Obakage Yoshi, suo zio, ma in fondo era suo zio anche Yoritomo, che riuscirà a farlo perdonare. Così, Arizuna fondò il clan Matsuda. Miura Yoshizumi, 1127-1200, era figlio di Yoshiaki e perciò cognato di Yoshitomo e zio di Yoshihira. Era detto anche Argyro. Nel 1180 si unirà alle forze di Yoritomo contro gli Eike, assieme al fratello Yoshitsura, combattendo a Danno Ura. Nel 1199 si schierò con gli Ojo, prima contro Kashiwara Kagetoki e poi contro Atakeyama Shigetada. Suo figlio nel 1213 formerà un'alleanza con Wada Yoshimori per combattere gli Ojo, ma lo tradirà, informando Ojo Yoshitoki e partecipando alla distruzione del clan Wada. Saito Sanemori, 1111-1183, all'epoca di Eiji a 49 anni e morrerà a 72 anni. Era figlio di Saito Sanenao, discendente di Fujiwara no Toshihito. Era il signore di Nagai, come dice il suo soprannome, Nagai Betto, nella provincia di Musashi, l'attuale Kumagaya City, prefettura di Saitama. Essendo la provincia di Musashi nella sfera di influenza di due potentati come quello di Minamoto Yoshitomo, con base nella provincia di Segami, e quello di suo fratello minore Yoshitaka, con base nel Kozuke, egli all'inizio servì Yoshitomo e poi passò a Yoshikata, fino a quando quest'ultimo fu ucciso dal figlio di Yoshitomo, Yoshira, detto Akugenta, ovvero Genta il Malvagio, nel 1155, facendolo tornare al servizio di Yoshitomo, ma non dimenticò mai la sua fedeltà al suo defunto signore, e quando a Tekayama Shigayoshi gli lasciò il suo erede, Komo Amaru, egli lo inviò a Nakara Kaneto per crescerlo. Dopo aver combattuto per Yoshitomo nei conflitti di Hogen e di Eiji, fuggì nel canto alla sconfitta della sua fazione, passando poi al servizio dei Taira, che lo apprezzarono come abile generale e grande guerriero. Era presente con Taira Koremori alla battaglia di Fujigawa e di nuovo con lui si scontrò con Kiso Yoshinaka nella battaglia di Shinoara, provincia di Kaga, dove venne ucciso da Tezuka Mitsumori. Sanemori aveva già 72 anni e si era tinto barba e capelli di nero e venne riconosciuto dal servo di Kiso Yoshinaka, i Gucci. Il suo selmo è costudito al santuario Tada Jinja di Komatsu City, prefettura di Ishikawa, ed è oggetto di una cerimonia all'insediamento di ogni alto prelato del tempio. Curiosamente, dato che sembra che il suo cavallo sia inciampato in una pianta di riso subito prima della sua morte, il folklore narra che lo spirito di Sanemori si sia mutato in un insatto parassita dal riso, la cicalina, detto Sanemori Mushi. Egli è il protagonista anche dell'opera Kabuki Genpei Nunubiki no Taiki, detta anche Sanemori monogatari, assieme a Senoho e ad un giovanissimo Tezuka Mitsumori, il guerriero che lo avrebbe ucciso. Okabe Tadazumi, della Lega di Inomata, è noto per aver combattuto con Teira Tadamori, 1144-1184, a Ichi no Tani, ma quando stava per essere ucciso, il suo scudiero riuscì a mozzare il braccio destro a Tadazumi, salvandolo. Inomata Norizuna, morto nel 1192, è noto per aver combattuto con Teira Moritoshi a Ichi no Tani nel 1184, venendo da lui però facilmente sconfitto e riuscendo a salvarsi promettendoli di proteggerlo dagli altri guerrieri Genji in cambio della propria vita. Tuttavia, poco dopo, approfittando di una sua distrazione, l'ho ucciso a tradimento. Kumagai no Jiro Naozane, 1141-1208, all'epoca di Eiji a 19 anni, morte a 67 anni. Nato al villaggio Kumagai, distretto di Osato, provincia di Musashi, a causa della morte prematura del padre fu cresciuto dall'uzio, Isaka Naomitsu. All'inizio della guerra Genpei combatté per Teira, ma dopo la battaglia di Ishiba Shiyama, come fece anche Kajiwara Kagetoki, passò ai Genji, distinguendosi come proda e guerriero. Sicuramente il fatto più noto della sua vita è l'uccisione del giovane Teira Atsumori a Ichi no Tani, che è soggetto anche di una famosa opera Kabuki e di un'altrettanto famosa opera No, che si diceva fosse la preferita di Oda Nobunaga. In seguito si farà monaco sotto la guida di One, 1193-1212, fondatore della corrente del buddismo della terra pura, detta Jodo Shu, prendendo il nome di Rensei, prendendo servizio al tempio Komyoji, che si trova ad Ao, Nagaoka Kiyositi, Kyoto. Nel 1190, dietro il suggerimento di One, egli terrà un servizio funebre per il sesto anniversario della morte di Atsumori sul Monte Koya. Morirà proprio ripetendo il mantra Namo Amida Buzzo durante una cerimonia di fronte ai suoi discepoli. Irayama Suishige, morto nel 1212, era nato nel Musashi e apparteneva al clan Imatsuri e viveva nel villaggio di Irayama, l'attuale Ino City, prefettura di Tokyo. Nel 1156, durante Ogen, combatté per Minamoto Yoshitomo e durante Eiji era al fianco di Yoshihira, il suo primo genito, contro le forze di Teire Shigamori, in 17 contro il 500, stando alle storie. Dopo la sconfitta dei Minamoto, si ritirò a vivere come un signore locale, salvo tornare a riprendere le armi per seguire Yoritomo. Si distinse assieme a Kumagao Nozane nella presa del castello Kinsa-Jo del clan Satake. Nella battaglia del fiume Uji contro le forze di Kiso Yushinaka sconfisse grandi guerrieri quale Nenoi Yukichika e Tate Chikatada. Si distinse poi anche a Ichinotani, Yashima e Danura, ma il favore di cui venne investito da parte dell'imperatore divenne motivo di risentimento per Yoritomo, come accade anche per Yoshitsune. Nel 1189 combatté anche nella battaglia di Oshu, assieme al figlio Irayama Kotaro Shigemura, sempre contraddistinguendosi. Morì nel 1212 a causa di una malattia. La sua lapide si trova assieme a una statua ligna a lui dedicata al Soi Jin, a Ino City, prefettura di Tokyo, e un santuario a lui dedicato, in sue Shige Jinja, si trova sempre a Ino City. I suoi discendenti subirono prima la purga degli Ojo e successivamente in tracollo durante il periodo Sengoku. Kaneko Nojiuro Ietada, 1138-1216, morte a 78 anni, all'epoca di Ogen a circa 30 anni, famoso per aver ucciso i fratelli Takama, Saburo e Shiro, durante la guerra di Ogen nel 1156, guadagnandosi il rispetto di Minamoto Tametomo, che era capo dei suoi avversari. Kazuza Irotsune, morto nel 1183, faceva parte del clan Teira e aveva la sua base nella provincia di Boso, nelle province orientali. Sia durante Ogen nel 1156 che durante Eiji nel 1160, si schierò con Yoshitomo, ma dopo la sua sconfitta riuscì a tornare nei suoi domini senza subire ripercussione ed egli divenne un alleato degli Eiche. In seguito, alla morte del padre Tsunezumi, entrò in conflitto per l'eredità con i fratelli maggiori, Tsunekage e Tsuneshige, situazione con cui trunò fino al 1180. Nel 1189 però, i territori dei Kazuza vennero dati da governare a Fujiwara no Masakiyo, ovvero Ito no Go, mentre Fujiwara Chikamasa estendeva la sua influenza sulla zona. Perciò, nell'agosto del 1180, egli si unì con le sue truppe a Minamoto Yoritomo. Sembra inizialmente con lo scopo di fare il doppio gioco. Nel novembre del 1180, Irotsune uccise Satake Yoshimasa, dopo aver richiesto di parlamentare, e conquistò così il castello Kinsajo, uccidendo Satake Hideyoshi. Si dice che egli fosse rozzo e mancasse sempre di rispetto a Yoritomo, non scendendo mai da cavallo quando lo incontrava. Azione detta Geiba no Rei. In un'occasione giunse quasi a uccidere Okazaki Yoshizane per futili motivi. Nel dicembre 1183, Yoritomo ordinò a Kajiwara Kagetoki di ucciderlo mentre giocavano a Suguroku, una specie di gioco da tavolo simile al Backgammon o al Go, sostenendo che preparava una ribellione. L'erede di Kazuza Hirotsune si suicidò e le terre dei clan vennero confiscate. Con Yoshitomo resterano solo sette guerrieri, ovvero Yoshihira, detto Gendel malvagio, il suo primo genito, Tomonaga, il suo secondo figlio, Yoritomo, il suo terzo figlio, Sado no Shikibu no Tai Yoshigenari. Minamoto no Shigenari, figlio di Minamoto no Shigezane e fratello di Shigetada e Shigetō, era governatore della provincia di Omi. Nel 1131 venne nominato viceministro della guerra e combatte nella guerra di Oge per la fazione di Goshirakawa. Sarà lui a scortare l'ex imperatore Sutoku fino all'innagida Toba e nella guerra di Eiji scorterà l'ex imperatore Goshirakawa. Vi era poi Iraga no Shiro Yoshinobu. Iraga Yoshinobu, 1142-1206, figlio di Iraga Moriyoshi e nipote di Minamoto Yoshimitsu, aveva la sua base nello Shinano. Fu uno dei sette servitori di Yoshitomo che riuscì a salvarsi durante la fuga da Kyoto in seguito alla guerra di Eiji nel 1159, rifugiandosi nella contea di Saku nello Shinano. Non è ben chiaro cosa abbia fatto quando Ioritomo iniziò la sua ribellione, ma nel 1184 venne nominato governatore di Musashi e suo figlio, Kureyoshi, divenne invece Shugo, cioè amministratore della provincia di Iga. Sua moglie sarà la balia di Iorie, il secondo shogun, e lui sarà il padrino di Sanetomo, il terzo shogun. Inoltre vi era Kamata Masakiyo, suo fratello di latte e ultimo lo scudiero Konomaro. Durante la marcia Ioritomo, che allora aveva 13 anni, vinto dalla stanchezza, si indormentò sul suo cavallo e giunto a Noji suo padre Yoshitomo si accorse che non era più assieme al gruppo e chiese perciò a Kamata Masakiyo di tornare indietro e cercarlo. Nel frattempo Ioritomo si era svegliato, ma nel cuore della notte del ventisettesimo giorno del dodicesimo mese non riusciva a distinguere il cammino. Noji si trova poco a est di Seta, quindi siamo sempre nei pressi dell'inizio del fiume Iodo, alla punta sud del lago Biwa, circa 5 chilometri da Seta, stazione di Minami Kosatsu. Non sapendo cosa fare, giunse per caso alla stazione di Moriyama. Moriyama si trova a nord, risalendo la costa est del lago Biwa, a circa 6-7 chilometri da Noji. Il capitano della posta, un certo Gennai Sanehiro, udendo il rumore del trotto di un cavallo, uscì con i suoi uomini, impugnando una falce, e vedendo Ioritomo afferrò il suo cavallo per il morso, affermando di avere l'ordine di fermare qualunque fuggesco arrivasse dalla capitale. Ioritomo cercò di protestare, affermando di non essere un guerriero, ma un semplice ragazzo che fuggiva dalla capitale per raggiungere i parenti in campagna. Ma anche al buio, a giudicare delle sue armi e del suo aspetto, si vedeva che non era affatto qualcuno di comune, e Gennai sospettava che potesse essere uno dei figli di Yoshitomo, e voleva perciò trattenerlo, e cercò di afferrarlo per farlo scendere di peso da cavallo. Improvvisamente, Ioritomo si alzò sulle staffe e disse «Canaglia, se ti dico di lasciarmi passare, tu mi lasci passare!» e con la spada e gli gachiri, assestò un fendente al volto di Gennai, uccidendolo. Gli altri uomini della stazione rimasero sconvolti, e prima che potessero afferrare le loro armi, Ioritomo diede di sprone al cavallo, attraversandoli e galloppando via. Questo episodio potrebbe essere detto un diventato perché è abbastanza strano, e forse serve solo a dare l'idea che Ioritomo sia un prodo guerriero. Presso il gretto del fiume Iyasu, Ioritomo si imbatte in Kamata Masakiyo, che era tornato a cercarlo, e i due raggiunsero così Yoshitomo e gli altri a Kagami. Il fiume Iyasu è subito dopo Moriyama verso est, e di fatto lambisce la cittadina. Si tratta di appena 1-2 km di strada. Kagami si trova proseguendo in direzione nord-est, seguendo circa il percorso della ferrovia, anche se non è attraversata, trovandosi appena a sud di questa. Non distante da Omiyachiman, poco dopo l'inizio del lago maggiore di Biwa. Si tratta di una distanza di 5-6 km di km dal fiume Iyasu. Yoshitomo aveva saputo che la barriera di Fuwa era in allerta, e decise così di passare per Kozeki. Era il ventottesimo giorno del dodicesimo mese, in pieno inverno, e quel giorno il cielo era coperto di nuvole, cadeva la neve, e soffiava un forte vento, tanto da rendere difficile distinguere il sentiero. Pensando che a cavallo non sarebbero riusciti a proseguire, il gruppo di fuggitivi abbandonò i propri distrieri e le loro preziose armature del clan Minamoto. Yoshitomo si spogliò dell'armatura senza scudo, Genda il malvagio di otto draghi, Tomonaga di Sagittaria e Ioritomo si tolse la prima veste di Genda, che rimasero lì, nella neve. Non riesco a capire dove siano esattamente la barriera di Fuwa e il passo Kozeki. Forse queste località hanno cambiato nome. Probabilmente qui Yoshitomo smette di seguire la strada usata da tutti, che lo avrebbe portato verso un qualche posto di blocco nella zona di Icone, e si addentra fra le montagne per bypassarla, passando per il monte Ryuzeji e il monte Keozuka, e poi per il passo Sashutoghe, ma sono solo mie ipotesi. Ancora una volta, Ioritomo rimase indietro e Kamata Masakiyo tornò indietro a ricercarlo, ma stavolta senza riuscire a trovarlo. Yoshitomo, pur disperato per la perdita del figlio, decise di proseguire, e superato Kozeki, raggiunse Aohaka, nella provincia di Mino. Aohaka, nella provincia di Mino, dovrebbe essersi trovata nella zona dell'attuale Aogaki, prefettura di Gifu, poco a est di Sekigara. Difatti, Aogaki si trova in un punto strategico sulla strada tra le allora province di Mino e Omi, e nel periodo Sengoku fu duramente disputata tra Saito Dosan e il padre di Oda Nobunaga, e anche Toyotomi de Yoshi la affidò a quelli che credeva ai suoi alleati più fedeli. E persino Tokugawa la assegnò al clan cadetto dei Tokugawa in Matsudaira, finché nel 1635 divenne Feodo dei Toda, che la tennero fino alla restaurazione Meiji del 1868. Sembra che il primo a costruirvi una fortificazione sia stato il clan Miyagawa, ma che in seguito i comandanti dell'epoca a Sengoku lo abbiano ingrandito e rafforzato proprio perché controllava l'accesso al passo di Sekigara. Il castello di Aogaki venne distrutto dai bombardamenti nella Seconda Guerra Mondiale, e quello attuale è una ricostruzione del 1959, basata su foto e disegni. Lì si trova Enju, figlia di Ooi, una donna con la quale Yoshitomo aveva avuto una figlia di nome Yasha, che allora aveva dieci anni. Lì vennero bene accolti e rifocillati. Yoshitomo rivide la figlia e promise che se fosse riuscito a tornare nelle province dell'est, avrebbe mandato qualcuno a prenderle per portarle da lui. Convocati poi i suoi figli, Yoshitomo decise che si sarebbero da lì in poi divisi, per chiamare le armi i clan al loro fedeli. Yoshihira si sarebbe diretto nelle province del nord, passando per i Chizen. Tomunaga si sarebbe diretto nello Shinano e poi nel Kai, mentre lui stesso avrebbe proseguito verso est. Yoshihira e Tomunaga partirono subito, ma poco dopo essersi divisi, Tomunaga, la cui ferita alla gamba ormai procurava un dolore atroce, tornò sui suoi passi. Tornato da Yoshitomo, decisero che era ormai per lui impossibile fuggire al nemico, e perciò Tomunaga chiese al padre di decapitarlo e Yoshitomo acconsentì. Preparatosi alla morte, Tomunaga si mise a recitare l'invocazione del Buddha, e Yoshitomo gli si avvicinò per colpirlo. Ma i suoi occhi si riempirono di lacrime, e non riusciva nemmeno a vederlo. Allora Yoshitomo si ricordò delle parole di suo fratello minore, Otohuaka, che aveva fatto uccidere tre anni prima, quando aveva appena tredici anni, assieme agli altri suoi fratelli, e disse «Aveva ragione a Otohuaka, se li avessi lasciati vivere, ora sarebbero stati i miei difensori più fedeli. Ora capisco le sue parole». Mentre esitava, entrò Dama Enjun, che visto cosa stava succedendo, si aggreppò le vesti di Yoshitomo, disperata che potesse uccidere il figlio. Yoshitomo disse che non intendeva ucciderlo davvero, ma solo testarne il coraggio. Aiutarono allora Tomonaga a stendersi su un letto, e gli riedono da bere un po' di sake. Quando Enjun se ne fu andata, Yoshitomo chiese suo figlio a Tomonaga «Sei pronto?». L'altro rispose di sì. Giunse le mani in preghiera, e recitò le invocazioni, mentre suo padre entrava nella stanza per trafiggerlo tre volte nel petto con la propria spada, e poi lo decapitò, lasciando la testa vicino al cadavere che coprì con una veste. Nella capitale aveva fatto uccidere sua figlia di 14 anni da Kamata Masakiyo. Ora, a Aohaka, lui stesso aveva ucciso sua figlia Tomonaga di 16 anni, e non poter trattenere il pianto. E con lui piansero anche Masakiyo, Minamoto Shiganari e Iraga Yoshinobu. Minamoto Noto Monaga, 1143-1160, dal 1159 era segretario dell'imperatrice consorte Takamatsu-in, il cui vero nome era Shuko, moglie dell'imperatore Nijo e figlia del defunto imperatore Toba. Indossava l'armatura Omodoka e cingeva la spada detta Uso Midori. Nella fuga da Kyoto, il gruppo di 30 guerrieri viene bloccato a Ryuge-goe, Oara, Sakyo, Kyoto, da un gruppo di monaci del monte Iei, e nei scontri, egli viene ferito. Separatesi dagli altri, il gruppo di soli 8 guerrieri di Yoshitomo avanza verso il monte Ibuki, ma è costretto ad abbandonare armi ed armature che li rallentano, e anche Yoritomo, che era rimasto indietro perché esausto. Giunti a Aohaka, l'attuale Ogaki, prefettura di Gifu, vengono accolti da colleghi che esistisce la locanda riservata ai viaggiatori di alto rango, tale Oi, la cui figlia Enzu è stata concubina di Yoshitomo, e le ha dato una figlia detta Yashagoze. Tomonaga e il fratello maggiore Yoshihira partono per il Kai e il nord del paese, ma dopo che si sono separati, Tomonaga, rendendosi conto di non poter proseguire a causa della ferita della gamba, torna indietro. Viene rimprovedato dal padre, che decide di lasciarlo da Aohaka per guarire, ma Tomonaga, sapendo che se resterà lì, verrà fatto prigioniero, gli chiede di ucciderlo, ma viene fermato da Oi. Fingendo di voler solamente mettere alla prova il coraggio del figlio, Yoshitomo se ne va, ma quella stessa sera torna e lo uccide. Oi seppellirà con ogni rispetto i resti di Tomonaga, ma quando i Taira vennero a sapere dell'accaduto, aprirono la sua tomba e portarono la sua testa a Kyoto, dove la esposero a Roku Jogawara. Otani Chuga si adoperò per fare tornare la sua testa, in qualità di talismano, a Fukuroi Mikawa, provincia di Suruga, l'attuale Fukuroi, prefettura di Shizuoka, dove è sepolta, mentre il suo corpo si trova ancora a Aogaki. Il poeta Bansho concluse il suo viaggio attraverso il Giappone proprio fermandosi sulla sua tomba ad Aobaka, dove compose la poesia, interamente coperto di muschio ed edera, è questo il Buddha. La sua morte è anche soggetto di un'opera in fretta, Yoshitomo fece annunciare la sua partenza, e Dama Enju e sua madre Ooi andarono da lui a chiedergli di restare e celebrare lì la fine dell'anno, ma Yoshitomo affermò che non era il caso di perdere tempo, perché il pericolo incombeva su di loro, perciò gli lasciava il compito di occuparsi di Tomonaga. Mentre stava per andarsene, la gente della stazione, avendo saputo che si trovava presso la residenza di Ooi, si radrono lì, con l'intenzione di catturarlo e consegnarlo agli eiche. Erano circa duecento, e li stavano già circondando. Allora Shigenari salì a cavallo e dopo aver gridato, Pate largo a Miramoto Yoshitomo, capitano delle scuderie di sinistra! Partì al galoppo, travolgendo coloro che aveva davanti, mentre gli altri si gettavano nel seguimento. Giunto al bosco di Koyasu, Shigenari uccise colpi di frecce alcuni dei suoi inseguitori, poi si strappò la pelle dal volto e si aprì il ventre con due tagli a croce, morendo a 29 anni. Coloro che lo inseguivano, con venti che si trattassero di Yoshitomo, li tarrierono la testa, ma resosi conto che non si poteva più identificare, la abbandonarono. Nel frattempo, approfittando della confusione, Yoshitomo e gli altri erano fuggiti. Al mattino, Hoi si recò a svegliare Tomonaga, ma trovò solo il suo cadavere. Dama Enju, pregando per la salvezza della sua anima, fece bruciare il corpo in un boschetto di bambù che si trovava dietro la sua residenza. Durante la fuga della capitale verso le province dell'est, Yoritomo era rimasto indietro, mentre il resto del gruppo formato dal padre, dei fratelli maggiori e dei servitori più fedeli, era giunto da Aohaka. Perdutosi, raggiunse un monastero di montagna chiamato Koira. Scendendo verso valle, arrivò a un fiume e lì incontrò un allevatore di cormorani che viveva in quel luogo. E dopo avergli svelato la sua identità, il buon uomo lo portò a casa sua, lo rifacillò e lo curò meglio che poteva. Il fiume è il Nagaragawa e l'uomo che aiutò Yoritomo si chiamava Akumyo ed era capo di una delle casatte degli dette Ukai, dove si praticava la pesca con i cormorani fin dai tempi di Fujiwara Toshito, ovvero intorno al 900 d.C. Dopo essere diventato shogun nel 1192, Yoritomo si ricordò dell'episodio, chiamò uno dei figli dell'uomo per ricomprensarlo e diede ordine che ogni anno venisse spedito a Kamakura dello Aiu Sushi. Il pesce Aiu, che viene tradotto come pesce dolce per il suo particolare sapore, si trova in buona parte dell'Asia, dallo Hokkaido fino alle Ryukyu, ma anche in Corea, Cina e Vietnam. È una specie di salmone e può raggiungere i 40 cm, sebbene di solito gli esemplari di un anno si girano intorno agli 8-10 cm. Nasce in autunno alle focce dei fiumi, poi si sposta nel mare per crescere e torna in primavera per riprodursi. Preciso che il fiume Nagara, nel punto più vicino, passa circa 10 km da Ogaki, dove si erano fermati Yoshitom e i suoi figli Yoshihira e Tomonaga, ben più a est di Sekigara. Gli uomini degli Eike, che erano sulle tracce dei fuggitivi e stavano perlostrando la zona, raggiunsero il villaggio dove si trovava Yoritomo e l'uomo che l'aveva ospitato tolse il pavimento della sua rimessa, scavò una buca, li fece entrare Yoritomo e rimise tutto come prima. Gli uomini degli Eike, dunque, perché usirono la casa e la rimessa, ma non lo trovarono e perciò se ne andarono. Fatto uscire Yoritomo dal suo nascondiglio, l'uomo decise che era troppo pericoloso per lui rimanere lì, perciò lo fece travestire da donna e fingendo di scortare un artista, lo portò fino a Aohaka. Qui si congedarono e Yoritomo promese all'uomo che se fosse tornato in possesso delle sue terre, lo avrebbe ricompensato e così fece, donandogli un feudo largo oltre dieci leghi a iniziare ad accogliere. Ad Aohaka, Yoritomo chiese rifugio a Aoi che lo accolse con felicità e lo nascose presso le stanze di sua sorella Yasha. Tuttavia, Yoritomo venne infine scovato e catturato, riportato alla capitale e poi mandato in esilio a Izu.